passiamo alla categoria Juniores dunque la terza serie in corsia due Camilla Brambilla alla tre Beatrice Pinzi quattro Anna Peruzzetto alla cinque Gaia Molinari alla sei Letizia Soncini sette Marica Baldini Angelli Alla cinque Matilde Zucchini Matilde Zucchini lo ricordiamo medaglia d'oro ai Criteria di Riccione duemilasedici nei duecento Rana Rana Dunque condiamoci queste ultime bracciate nella frazione Rana con Matilde Zucchini che si porta al comando relega cinquantasette centesimi Angelica Reali a due secondi e quaranta Giorgia Vavalle Matilde Zucchini nella stessa edizione dei Criteria è stata Arroggento nei cento metri Rana e ormai siamo all'epilogo una bellissima finale un bellissimo finale di gara fra Matilde Zucchini e Angelica Reali vediamo dunque chi la andrà a spuntare Angelica Reali per trenta centesimi di secondo alla meglio su Matilde Zucchini e dunque nel momento in cui sarà ufficializzato questo risultato Reali Zucchini e Vavalle si divideranno i gradini